Allora, abbiamo i lavori qui sopra e nel negozio qua sotto, cioè stai diventando un trapano pure tu Già, non so quanto si sentirà nel microfono, ma per noi è una tortura E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph, e che sei giocato a Mad High School 1&1? È un giochino carinissimo che abbiamo scoperto ieri e abbiamo deciso di portarlo subito nel canale Di cosa si tratta? Praticamente noi siamo degli studenti che stanno facendo degli esami di recupero, credo Ok E il nostro obiettivo sarà quello di riuscire a cercare le risposte nel cellulare e riuscire a passarli a tutti gli studenti della classe in modo tale che nessuno sia bocciato Esattamente, siamo noi contro un professore che è armato di mazza da baseball Ma ti sembra, cattivissimo Se ti becca ti prende proprio davvero ammazzato in testa e non stiamo scherzando Quindi l'obiettivo sarà quello di far promuovere tutta la classe passando i suggerimenti che troviamo dal cellulare Esatto È una classe proprio disastrosa che ha bisogno di una mano Ha bisogno di una mano, esatto Non si copia nella realtà, ragazzi Mi raccomando, questo è soltanto un gioco divertente su cui scherzare un pochettino Esattamente, quindi fate da bravi a scuola Altrimenti le mazze da baseball le usiamo noi Allora, se scopriamo che copiate veniamo come questo professore con la mazza così ve le diamo noi in testa Esatto Fate da bravi e possiamo iniziare, vedete? Possiamo cercare le risposte nel cellulare Dopodiché bisogna appunto dirle agli altri compagni Esatto, esatto Bisogna lanciare gli aeroplanini perché ci saranno anche i compagni più distanti dove a voce non riesci Non riesci a sussurrargli le risposte appunto perché sono lontani E vedete il professore prende proprio ammazzate in testa Comunque, simpaticissimo, io non vedo l'ora di giocare Ok Come vedete il tempo è molto limitato perché ho già visto il primo livello velocemente Abbiamo solo un minuto e trenta, quindi muoviti Allora, concentrazione dobbiamo riuscire Guarda che mostra ti faccio, lo distraiamo? Oh bravo, sì Professore scusi ho un problema con il test, vai cerca le cose nel cellulare, vai 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 Ok, il cellulare ce l'abbiamo fatto Invece se vedete diventa verde il foglio della persona che sa le cose Ok, sta andando da quella parte quindi dovremmo riuscire a fare un tempo a sussurrare al nostro compagno di banco Bravissimo, bravissimo, dai stiamo andando abbastanza bene Il tempo passa solo un minuto, dobbiamo essere molto 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 veloci Vai dall'altra, vai verso lì No, ok, dobbiamo aspettare Accidenti Ok, ora, 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 ora Non siamo nel suo campo visivo Perfetto Sì, sì Manca soltanto l'ultimo Distraiamo di nuovo così Esatto Facciamo così E adesso li abbiamo fatti tutti e quattro Ora viene il difficile È difficile Lui è davvero difficile perché è lontano Li dovremmo lanciare addirittura un aerea planino È fantastico Cioè li lanci suggerimenti così Guarda Non mi ha fatto una finta Aspetta Ok No, no Sì, sì, sì Sì A 30 secondi dalla fine ce l'abbiamo fatta Tutti promossi? Sì Tutto a posto Io l'ho visto uscire fuori Pensavo fosse il momento perfetto Anch'io Stava rientrando Stavo per panicare Ha fatto la finta Ma ti sembra Comunque già dal primo livello è abbastanza complicato Non è proprio semplice Andiamo al prossimo 5 su 5 Ed è Oh Oh no Cioè ma addirittura Un minuto e trenta sempre Allora tu cerca velocissimo col cellulare Allora E può cercare anche lui Giusto Abbiamo il comando No È già andata malissimo È già andata malissimo Stavo panicando Stavo panicando perché ne abbiamo troppi Cioè Ok Può farlo sapere a lui Da qua Ok Studiamo un pochettino Poi lo rifacciamo Capito Cerchiamo di capire Cerchiamo di capire la situazione Oh mio dio Guarda cosa può fare Può ribaltare il banco Credo per distrarre Oh mio dio Ma quindi arriviamo ad avere azioni diverse Sì a quanto fare sì È perché dobbiamo evolverci Prendi Buttigio la scrivania Giusto per distrarre tutti quanti È una buona causa Comunque Allora il primo livello Eravamo quanto 5 6 Cioè questa è una classe intera Come ci identiferemo Infatti è molto più difficile Questo è un compito difficilissimo Allora Tu praticamente chiami subito il professore Alla fine della classe Ah sono cambiati di posto Sì ho notato Ok Allora faccio subito Cercare a loro due le soluzioni Bravo Bravo Vai Tanto il professore è da quel lato Quindi cerca di farli passare subito Tu parla con te E tu con lui Ok dai Veloci Veloci Ok Benissimo Ok è andata Manca questo Benissimo Fai chiamare il professore dall'altra parte Esatto Vedi Facciamo ta Ta Ok È andata Vediamo il compito se diventa verde Sì Sì Ok abbiamo fatto tutta la parte di sinistra Adesso ci serve qualcuno che può fare un macello Tipo Lui Così quello di dietro Aspetta Ma l'ho bastato No ma allora non va bene Poverino C'è praticamente sacrifichi Si sacrifica Uno studente per far passare le cose agli altri Un po' triste Ma non l'avrei mai fatto Sapendo Vabbè dai È andata Che ti devo dire ormai Ma poverino Questa volta sta andando un po' meglio Allora Ok ok Perché non posso da lui a lui Non è giusto La distanza ci sarebbe Allora Con calma Con calma Allora riflettiamo bene Tu e tu Ok Così almeno questi sono a posto E siamo tranquilli Esatto Tu e tu Ok Perfetto Ok Qua forse questo qua Ancora non lo sa No 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 Ok Gli hai fatto prima Gli hai fatto prima Allora Come arriviamo all'altra parte Qualcuno che è l'aeroplanino Ah Perché possono fare un tot di azioni Ognuno di loro Capito? Oddio Sta diventando difficilissimo Quindi ognuno di loro Ha un tot di azioni E tu devi anche Tener conto di quelli Che possono lanciare Gli aeroplanini Per raggiungere il resto Della classe Esatto Mamma mia È difficilissima Vedi lui aveva l'aeroplanino Come opzione Eh sì E tutti gli altri Mi sa che non ce l'hanno No ma Allora è super complicato Davvero È super complicato Uffa Ne abbiamo lasciato tre Secondo te Ci fa passare lo stesso? Allora Mi dispiace tanto per quei tre Però Eh vabbè Si sta facendo complicata La situazione Peggio per loro Che non hanno studiato Sì Scusami Sì Per loro che non hanno studiato Non funziona così Sono tutti uniti tra di loro Poverini Nessuno ha studiato Hanno solo giocato col cellulare Impazienza Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti No anche perché è troppo complicato Rimaniamo Incagliati in questo livello a vita Due professori Oh mamma mia No No Ma siamo matti Lo vedi questo Che cosa Che cosa ha in testa? Sì Ma Non lo so Così Cosa si è messo oggi? Il raggi X No vabbè No è impossibile È vero È impossibile È impossibile È impossibile Io te lo dico Cioè è complicatissimo No 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 È più facile studiare Che copiare in questa Ma davvero Vedi almeno ti insegna Non è vero Guarda Almeno vedi insegna buone cose Abbiamo già fallito No con due è troppo però No sarebbe meglio studiare davvero ragazzi Cioè è troppo complicato farvi copiare Ma dai Riproviamoci Dai Dai Ce la dobbiamo fare Allora Lui è qua Bello isolato Quindi è facile facile Guardalo subito Ok subito Come facciamo a fare attenzione a due professori È impossibile Quello poi fa paura Sembra un supereroe Un cattivo di supereroe Con quella cosa in faccia È cattivissimo Lo so Allora Fai chiamare i professori Ma in questo momento Se uno alza la mano Ci vanno entrambi o solo uno? No Solo uno Solo uno Ok Ok Sì 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 Buono a sapersi Ok Perfetto Oddio 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 No 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 Ok andata 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 Perfetto Perfetto Che ansia È bellissimo sto gioco Ora Appena Stiamo andando troppo lenti però vero? Sì stiamo andando troppo lenti Abbiamo 45 secondi Quindi dobbiamo muoversi Oddio 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 È impossibile No è impossibile Vai 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 Ora Fallo sapere No Back up Back up Back up Da entrambi Guarda doppie martellate Però approfittiamo No Non c'è nessuno Approfittiamo per far copiare qualcun altro Esatto Che ci vuoi fare? È difficilissimo Allontanatevi Su forza Dai Lasciateci in pace un attimo No è impossibile Altro tentativo Io non demordo Dobbiamo farcela Dobbiamo È una questione d'onore Assolutamente farcela È una questione d'onore Sì 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 Voglio aiutare questi poveri ragazzi Ormai mi sono affezionata a loro Voglio aiutarli a passare a questo esame Ok lui ha subito cercato Ok Bravo Ha rischiato col bionico Te lo dico Il bionico Vede troppo Vede troppo Dai Ok Ok Ne abbiamo due È già meglio del solito L'altro cellulare A me non mi piace per niente E a lui Ok al tempo Al tempo Dai 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 No Dannazione Non è possibile però Sono troppo lenti capito Sono lenti E i professori camminano belli veloci Quindi è davvero complicato Davvero davvero complicato Però possiamo ancora riuscire a combinare qualcosa Giusto? Dici? Secondo me se ci giochiamo gli informatori Diventa impossibile Non lo so Conta che non devi per forza avere tutta la classe Quindi secondo me Ok Possiamo riuscire a fare buona parte Il problema è il tempo Aspetta Aspetta Ok ok Chi si può sacrificare? Qualcuno Ok lui 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 Ta Ta E ta Ok Vanno tutti e due i professori Vola l'aeroplanino vola Ok Andata Andata Ok bravissimi Dai dai Adesso distra i professori Mandali dall'altra parte Anzi ci stanno già andando Mandali dall'altra parte della classe No attenzione 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 Sì 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 Si faccia con calma Calmo calmo Ok Se ne vada bionico Se ne vada bionico E si girerà questa No 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 Uuuuh Che fortuna 8 secondi però Non ce la faremo mai Qualcuno che può alzare la mano Bu No Questa era utile No Quanti ne abbiamo fatto? 1 2 5 Tipo 5 E' una schifezza Una schifezza Però Stiamo migliorando Stiamo migliorando Sì 5 di 13 Probabilmente dobbiamo farne tipo 9 Ré Ok Questa è partita bene Siamo partiti bene Dai che ce la facciamo Guarda 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 Come ci stiamo espandendo Dai Ok Bene 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 Allora Tu a lui Ok Questa pancata è buona Perché se riusciamo a farla tutta Sono tanti studenti Davvero Sono tanti studenti Dai che ansia aiuto Bravissimi Aiuto Bravissimi ragazzi Bravi Vi voglio già bene Tu lo puoi dire a lui Ok Allora facciamo Qua c'è qualcuno che si può Ok ok Bravo Perfetto Bravo bella mossa Bravo bravo Allora Oddio adesso Lui lo può dire Ok E anche a questi addirittura Fallo dire a lui Fallo dire a lui Vai Ok Ti prego Ti prego Non ti gira Sì Andata 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 Dai che ce la facciamo Ci serve Dai 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 Lui si sacrifica Ok Sì sì Ha senso Ha senso Speriamo che non si giri No Andata andata Perfetto Se riesco a fare No l'ho fatto beccare No Però l'ha sentita Ok ok Quindi uno per uno C'è abbastanza speranza più o meno Cinque secondi Cinque secondi Si sono mezzo flippati Diglielo Ti prego prendilo Ti prego prendilo Ti prego prendilo Dai 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 No Quanti ne abbiamo fatto alla fine Ti giuro che se sono otto Con quello lì che mancava mezzo secondo Spacco qualcosa Tre Quattro Cinque Sei Mi sa che sono proprio sette Nove Ma cioè non ce lo fa passare neanche con nove No ragazzi Oh noi siamo andati bene stavolta Io tiro le mani avanti Siamo andati bene Perché farne nove su tredici è un buon risultato Cioè ne devi fare dieci Ti rendi conto che Quindi praticamente c'è uno scarto di tre in ogni livello no? Sì ma Con un secondo in più Prendeva quello a fianco E ce l'avremmo fatta Sì Comunque è impossibile Cioè È troppo difficile Un minuto e trenta è troppo poco Almeno due minuti Secondo me Allora dovrebbero infatti Quando la classe è così ampia Così tanto almeno aggiungere qualche secondo in più Almeno due minuti secondo me Esatto Però Però ci siamo andati vicinissimi Se avessimo avuto giusto un secondo in più Ce l'avremmo fatta Quindi siamo stati bravi Esatto Comunque ci vediamo così ragazzi Questo qua è un gioco gratis Che potete tranquillamente scaricare Vi lasceremo il link in descrizione Magari giocateci anche voi E fateci sapere nei commenti Se riuscite a completare questo livello Perché E se ci riuscite cari consolini Dovrete darci dei consigli Perché lo vogliamo assolutamente superare Consigli su come copiare Non è una bella cosa Lo sai? Lo sai? Eh lo so Lo so Ma si copia solo nei giochi Ok Beh ragazzi Vi lascia così Lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 c'è Ciao c'è Ciao c'è